Quando viene qua, cosa pensa? Penso tante cose, che la gioventù è messa male per colpa degli adulti, perché se si tiene i ragazzi più fermi, con meno soldi in tasca, penso che sia meglio. Riflessioni di una nonna che quasi ogni giorno passa accanto al parchetto, dove quasi un mese fa il 18enne Elia Fiorindi ha coltellato mortalmente il 17enne Aiman da Benamur per questioni di soldi e droga. Una vicenda che qui il tempo sta già cancellando, con i segni sull'asfalto che stanno sparendo e il tendone della sagra in fase di smontaggio. Sarà per questo che spontaneamente è nato l'albero di Aiman. Qui, soprattutto la sera, i giovani che lo conoscevano si ritrovano. Hanno portato due panchine, dei fiori, dei lumini. Chi li osserva racconta che parlano tra di loro, fumano qualche sigaretta lasciata sul posacenere e guardano la foto che hanno appeso in ricordo del loro amico. Qualche ragazza ha lasciato anche un peluche per non immiticare né la morte di Aiman né Elia, che ha compiuto un gesto che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Una storia che divide il borgo tra chi vorrebbe semplicemente dimenticare e chi invece spera serva da lezione per la coscienza di tutti. Hanno coscienza anche poca, perché se questo che è morto, l'altro avanzava a soldi, allora non ti do niente e basta. Non dovevano fare questo. Peraltro io guardi sono italiana, ho vissuto anche fuori all'estero, per mia disgrazia sono tornata in Italia, maledetta quella volta. Ecco, le dico questo sinceramente di cuore. Ho vissuto su un paese che i miei figli sono andati a vedere, hanno detto mamma, sono una miseria peggio di qui. Ma almeno la si si voleva più bene. Ero abitata in Francia. Ero abitata in Francia